La gente che fa La gente che fatica a studiare, la gente che fatica ancora con i mezzi agricoli come la gente che, e ce ne sono baronissimi, sono in grado di competere con i migliori scienziati del mondo, forse non tutti lo sanno, ma ce ne sono baronissimi. Metteremo un pezzo importante perché mai nella storia centenaria della nostra città un istituto superiore aveva avuto una sua sede definitiva, una sua sede ancorata, una sua pietra vera nella sua terra. Riusciremo a ritornare la baronissima che faceva ed è la fierezza e orgoglio di tutti quanti.